Mio padre era un uomo eccezionale, nel vero senso della parola. Con il suo pensiero e con il suo agire in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi. Oggi questi valori sono un esempio per chi l'ho amato, ma anche per chi non l'ho amato e lo ha addirittura osteggiato. Devo dirvi che avrei una lista infinita, il suo garbo, la sua generosità, la sua umanità, la sua combattività. Oggi da tutti sono riconosciuti e da tutti sono apprezzati. E questo è veramente una cosa bella, è un merito grandissimo che lui ha e forse il suo più grande, l'ascito. Io ho avuto la fortuna di poter ricordare in più occasioni mio papà e ogni volta ho provato a pensare a una parola che mi guidasse. Ho citato le parole a lui più care. I primi giorni ho parlato di libertà, poi ho parlato di rispetto, poi ho parlato di futuro, come lo intendeva lui. Oggi voglio usare la parola che rappresenta il nostro fondatore, mio padre, più di tutte le altre. È una parola quasi disarmante per la sua semplicità, ma allo stesso tempo è la parola più forte, più potente, la parola in assoluto più universale. Ve la dico mettendola in frase. Silvio Berlusconi, il nostro fondatore, mio padre è amore. Mio padre è stato, è amore per la vita, amore per la famiglia, amore per il lavoro, amore incondizionato per il suo paese. Ora vorrei leggervi una frase che è stata pronunciata direttamente da lui. Il vero amore vince su tutto. Se non sai amare, non puoi costruire niente di buono per te e per gli altri. Se sai amare, riesci a guardare alla vita in tutti i suoi aspetti. Con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti. Silvio Berlusconi. Ora basta ricordare, e sapete perché dico basta ricordare? Staremo insieme in un grande abbraccio, ma perché io sento, io so che lui è qui con noi. Grazie.